Pare che Kim Kardashian e Kanye West avranno presto un terzo figlio dopo North Sen, ma con madre surrogata. Un'opzione resa obbligata dai numerosi problemi di salute riscontrati dalla prezzemolina d'America nelle due precedenti gravidanze. L'informatissimo sito TMZ ha reso noto l'accordo raggiunto, tramite agenzia, con una donna che avrebbe accettato di fare da surrogato per una delle coppie più famose del mondo. Il portale americano fornisce anche le cifre esatte richieste per il servizio, ovvero quanto Kim e Kanye spenderanno per avere un altro bambino. Già alcuni mesi fa, all'interno del reality al passo con i Kardashian, Kim rivelò l'intenzione di avere un terzo figlio con utero in affitto. La celebrity 36enne ha faticato molto a restare incinta e soffre di placenta accreta, un problema che mette a grande rischio il parto. La volontà di diventare ancora mamma, forse sulla scia della madre Krisienner, che ha ben sei figli, è però più forte di ogni cosa. Pertanto il marito rapper, cui non mancano certamente le risorse economiche, avrebbero deciso di sottoporsi a una procedura meno naturale, accettando di pagare quanto segue. 45.000 dollari in 10 rate mensili da 4.500. 5.000 dollari per ogni bambino in più in caso di parto plurigemellare. Ulteriori 4.000 dollari nel caso la madre surrogata perdesse l'uso degli organi riproduttivi. Kim e Kanye avrebbero anche l'obbligo di versare 68.850 dollari presso l'agenzia. Sempre secondo TMZ, la madre surrogata è tenuta ad astenersi dal fumo, dal bere e dai farmaci durante la gravidanza. Accetta inoltre di limitare le attività sessuali nelle settimane precedenti alla gravidanza, e per tre settimane dopo l'impianto degli embrioni. Il surrogato no.